Eccoci e bentornati sul mio canale, riprendiamo con The Order 1886. Continuiamo la nostra infiltrazione qui nel quartier generale. Ci hanno sgamato? Ma sta cacchio di balestra, ma penso che sia il caso delle vammel, eh? Dov'è stato quel fucile? Viene che mi prendo il fucile. Altre guardie! Eccoli là, sul balcone! Ma questo è dei nostri. Ricarico! Bello! Oh! Amati! Cacchio! Dai! Che già mi piace di più così l'azione. Perfetto. Perfetto. Da che parte? Andiamo. Attenzione! Fucilieri! Sì! Non pervenire le munizioni! Ricopro le spalle! Oh porca miseria! Che si fanno male! Che si fanno ma... Che cacchio famo a difendereci da sti matti? Dai, dovevo riuscire? Ammazza! Ok! Capo! Mi arrivano altri da dietro! Anche dal pieno di soldi! Perfetto! Perfetto! Non ci divertiamo, eh! Questo andò va! Qui iniziative! Questo è da dove cacchio è spuntato! Fuori! Ah, parola! Perfetto! Ok! Andiamo, va! Pompa! Questo che c'ha? Tira sulla testa! Ok! Oh! Aia! Che cacchio è? Che cacchio è che mi rompe? Oh, che cacchio è? Eccolo che arriva! Forza! Vieni da papino tuo! Ah, sta sotto, stinfame! E va! Ok! Mi piace più questa perché almeno è più precisa! Niente! Belli! Aspetta che quello prende! Questo era l'ultimo! Potrebbero arrivarne altri in ogni momento! Non fermiamoci! Che cacchio! Questa spara meglio! Andiamo! Andiamo! Qua? Chi apre? Taglie! Allora, tocca staccare la corrente mo eh! O meglio, forse gli allarmi! Vediamo un po'! Sempre con quel bel dispositivo che ci piace tanto! Una delle nuove invenzioni del nostro caro amico! Ahia! Voilà! Non è posto! Ah, proprio apri la porta era! Oh, cacchio! L'M2 Falcon! Lo adoro! Qua niente! Aspetta! Si apprende un po' di munition! Questa è Lach Mibai! È il capo della ribellione! È una tua alleata! Non sarai uscito di senno per caso! Potrei porti la stessa domanda! Se non ti conoscessi, penserei che questa sia un'imboscata dei ribelli! Come se la prigione potesse spaventare! Ora non c'è tempo per questo! Ci serviva aiuto! Era l'unica a cui potessi rivolgere! Questa è una follia! Stai mettendo a rischio le fondamenta dell'ordine! Alastair! Devi fidarti di me! Ci hai chiesto di trovare una prova! Lei era con me a Blackwall! Ha visto tutto con i suoi occhi! Vuoi dirmi che ti ha aiutato a distruggere i moli della Compagnia delle Indie Unite? Mio padre aveva ragione! È un atto di terrorismo! Ti ha usato! È stata lei a mettermi al corrente della cospirazione! E se vogliamo capire, il suo aiuto è fondamentale! E se ti sbagliassi? Allora risponderemo delle nostre azioni! E ne subiremo le conseguenze! Come ha fatto Malory? Prega di avere ragione! Non vorrei vederti sul lato sbagliato di questo conflitto! Neanch'io, fratello! Eccoli! Dall'altro lato della sala! Noi ci divertiamo! Non sono bloccato! Resisti! Li copriamo noi! Non ho due parti dall'altro fuoco! Devo ricaricare! Ho detto l'M2 è fantastico! Oh cacchio! Qua, si è rotto l'anima! Ostia! Muoviamoci! La sala degli archivi è di qua! Andiamo! Andiamo! Speriamo che ci vada bene, regà! Perché se no so cacchi! Di qua, oltre la balconata del cortile! Sono sul balcone! Guardie! Nel cortile! Merda! Cavaliere, anni parlo! Ti compro io! Un cecchino! A destra! Un cecchino neutralizzato! Piano! Perfetto! Figa st'arma, eh! Mamma mia! Galahad! In copertura! Ti compro le spalle! Merda! E arrivano altri dal semi-interrato! Uno di loro ha un fucile Terniter! Diavolo! Tilly! Terniter! Ricarico! Tilly! Attenzione! Terniter! Aspetta! Aspetta! Aspetta che ricarico! Ricarico! Ok! Altri a sinistra! Mamma mia! Quando eccoci le adoro le missioni! Delirio vero! Posto! Questo era l'ultimo! Muoviamoci! Finché la situazione è tranquilla! Galahad! Aiutami con questa porta! Tranquilla mi sembra un parolone! Pronto? Gli archivi sono più avanti! Ho capito! Ma quanto cacchio sta? Non potiamo fare un giro un po' più corto? Cioè fa tutto il palazzo invece di arrivare direttamente agli archivi! Gli ribelli semina il terrore sul punto di Wetmister! Che cacchio è? Vedi che stanzette però eh? Andiamo! Guardate negli archivi! Cercate il manifesto! Polizia di carico! Ordini d'acquisto! Ciò che unisce la compagnia alle spedizioni del mezzo sangue! Finalmente! Sto controllando tutti questi doveri! Vai piano figli! Controlla che non arrivi nessuno! Che c'è? Oh! Preludio mi minore! Poi! Qua niente! Non lo vedete qua! Tocca cercare le prove regà! Ma dici che sono così stupidi che hanno lasciato delle prove qua? Invece devi nascondere! Mi sembra strano! Qua niente! Qua niente! Non posso correre in questa stanza! Posso andare solo piano! Strano che qua dentro non mi faccia correre! Andiamo a vedere da quest'altra parte! Ma comunque state a cercare! Vedo che pensate pure a impegnare! Complimenti! A distanza cercano! Va! Andiamo qua! Altro audio c'è? Testamento del capito! Luca niente! Qua niente! Qua qualcosa! Andiamo! Ho visto ovunque regà! No! Qua sta qualcosa! Aspetta! Aspetta! Qua che è sta testa strana di quest'animale? Va! Basta! Non mi sembra che ci sia altro qua! Bisogna... Vanna giù! Che qua mi sembra che ho appellustrato tutto! Eh regà! Che dite? Non mi appaiono più simboli... Di ricerche e quant'altro! Proprio andate avanti! Comunque tu stai a cercare! Grazie! Bello portarti a fare le missioni! Eh grazie! Qua! Nada le nada! Oh! Che hai trovato? Cavaliere! Di qua! Questo ti interesserà! Queste spedizioni erano dirette al mio paese! Stando a quel che dice il registro! La compagnia ha un punto d'appoggio in ogni stato indiano! Eccolo! Il carico della Gamennone! Destinato alle coste orientali delle Americhe! E tre spedizioni previste sulla stessa rotta! La prossima è la RMS Oceanic! E partirà tra sei settimane! Dov'è Finley? Dov'è Finley? Build-2 La prossima è per il mentre da l'applico! Lord Hastings Mi credi adesso? È lui, l'uomo dietro tutto questo Gli omicidi di Whitechapel La piaga dei mezzosangue Le Indie Unite Sempre voi Jacob Van Neck Oh, come i libellisti di strada Mi hanno affettuosamente rinominato Jack, lo squartatore Al vostro servizio Ti ringrazio Sir Lucan, per avermi consegnato questi ficcanaso Occupati di loro E non deluderci Tu Un bel colpo di fortuna, vero, Sir Galahad? Il capo dei ribelli catturato E un traditore smascherato Tutto in un sol colpo E il traditore sei tu, purtroppo Alastair Come hai potuto? Perdonami, fratello La mia stirpe viene prima di tutto La tua stirpe? Corri! Corri! Ah! Mamma mia che tradimento ragazzi Scappa scappa che mo te vengo a prendi Ragazzi spero che il video sasse il vostro Gradimento se vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale Mettete un bel mi piace sul mio video e ci vediamo Con tanti nuovi video sempre qui Sempre sul mio canale